Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale Come potete vedere qua siamo su Clash Royale E da un foto che non lo porto Clash Royale Lo so Praticamente è da Quasi un mese Di più Non lo so Ma vabbè Comunque lo porto adesso che Non è che ho fatto tanto progresso L'ho lasciato là dove era Non l'ho cagato più Adesso invece Cercherò di giocarlo più spesso Almeno nell'Arena 8 La raggiungeremo Un buono lo so Tre settimane che cazzo non so io Vabbè Adesso perché io ho un altro account Se volete lo faccio vedere adesso Guardate E' questo perché Tralasciando Lasciando stare Che mi chiamo Matic 07 Perché Prima di aprire il canale Mi volevo chiamare così Ma poi Vabbè E ditemi Con quale account Volete che continui i video Con questo Oppure con quell'altro Qua ho soltanto una leggendare Non ho più Sono sfigato di merda Invece Il mio amico Ne ha tipo Sette leggendari Che cazzo non so C'ha La principessa Il minatore Questo coso Che non mi ricordo L'inferno dragon L'electro wizard E la night witch Vabbè C'ha anche questo E questo Cazzo Io sono sfigata di merda Che c'ha soltanto Il tronchino Di casa Ma vabbè Ditemi con quale account Continuare Con questo Oppure con quello In arena 0 Vabbè Comunque torniamo in quello Ok ma torniamo qua adesso Quindi siamo tornati Cosa faremo In questo episodio Cercheremo di andare Almeno in arena 1 Poi per scegliere il nome Ci metto una vita Perché non so quale scegliere Perché Gashghost Cioè Troppo grezzo Quel che non è più figo Quindi Iniziamo Con questo deck Da zingari Ok Battle Tanto lo vinciava Il maestro Questo maestro Di sta minchia Team No voglio Vodafone Sta battuta di merda L'hanno fatto tutti Vabbè Mettiamo la witch Così a caso Tanto Porco cane Schelettini Schelettini Che cazzo vuol dire Mettiamo un gigante Per tancare Poi le frecce Tattiche Anche se non servivano Tanto Comunque Vediamo cosa fare Intanto la strega Gli sta già Fottendo la torre Quindi Ok Vittoria Vabbè Vabbè Anche se sono questi maestri Comunque Comunque Fotte sega Wooden chest Che non serve a un cazzo E adesso Il nome Ehm 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 Taglio Taglio Trovo il nome Poi Ho scelto questo Che Porco cane Che cazzo di voce Ok Ricapitolando Ho scelto questo Che perché Uno si può mettere Perché non Cioè Se nottevo altri nomi Tipo Che ne so Nomi a caso Che non c'entrano neanche Con il mio nome Mi diceva Try another name Ma vabbè Questo si può mettere Quindi Vabbè Mettiamo Qua abbiamo Come il gasgoss Soltanto che Aracca in mezzo Per fare più figo Ma vabbè Adesso apriamo Le Wooden chest Sono abituato a prendere Le crown chest Perché le wooden chest Non le vedo I tempi di Gesù Ma vabbè Raga Quando ho appena Iniziato a giocare A sta gioco di merda Rimanevo bloccata All'arena 3 Non avete idea Facevo pure i video Su youtube Tipo un anno fa Due anni fa Che cazzo non so Avevo un canale Matic07 Ah madonna Facevo Intanto ci sono Sti vicini di merda Che si mettono A litigare Ogni volta Che faccio i video Che hanno scassato La minchia Vabbè Da sbattere Le porte Porco cane Rimanevo bloccato In arena 3 E avevo fatto un video Una volta In cui Giocavo l'arena 3 E ero sceso In arena 2 Ma come cazzo È possibile Cioè Sono in arena Così facili Ci sono rimasto Quasi per un anno Qua nell'arena 3 Poi E' Sti vicini di merda Che hanno scassato La minchia Ogni giorno Litigano Fra di loro Ma vabbè Ok Adesso Iniziamo Per il final test Oppure Raga Ve lo schifo Questo Del maestro Perché non è Così tanto interessante Almeno facciamo Una partita Nell'arena 1 O Se possiamo Due No raga Cazzo Non l'ho recato L'animazione Che hanno fatto Tipo Quando sblocchi L'arena L'arena Tipo Dal training camp All'arena 1 Non so Spero che sia Anche con l'altra arena Perché Cioè È fighissimo Non avete idea Quanto è figo Madonna Vabbè Intanto apriamo Le free chest Vediamo Cosa contengono Ciò Stenzanzare Che mi hanno Appunto Mi fa male Cane Ok I goblin Vabbè Ci sta Ci sta Vediamo Di upgrade Il bobarolo I goblin Onestamente Li metterei No Io direi Di aspettare Di upgrade E poi Di metterli Al posto Di Non so Il Cavaliere Perché Già Ce l'abbiamo Già Un tank Quindi Ok Siamo già Contro I russi Che russi Non so Spero Che siano I russi Ok Lui ci lancia I goblin Invece io Gli mando le frecce E la strega Perché Perché con I suoi scheletri Ci può aiutare Un sacco Ha scannato Le frecce Lui Invece Io gli mando Un cavaliere E un bombarolo Ma C'è un po' Fottuti Qua Ma Noi C'è un cappello Nella Bocca Vabbè Che cazzo Schifo Mettiamo gli aceri E che cazzo Ci mette la strega Dall'altra parte Allora Si infame Davvero Che cazzo Rimette la fireball Yeah Adesso Non ho più Elisip Cazzo 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 Metto questo Vabbè Cazzo Mene Ma il bombarolo Ce l'abbiamo Al 2 Al 3 Il 3 Vabbè Questa partita L'abbiamo vinta Noi Perché io Ovviamente Con l'altra Canzon In arena 8 Quindi Ti pareva Che Vincesse lui Ma vabbè Quindi io So già Fare delle combo Cioè Come Quando sto facendo Un cazzo di combo Perché non ho le carte Ma Ti per esempio In arena 4 Spacco i culi Direttamente Vado in arena 5 Che cazzo C'hanno i cani adesso Scusate Se sentite i cani O Qualche altra I vicini Che stanno A litigare Scassare la minchia 30 coppia Se arrivo a livello 3 A meno A meno che Io non compri questo Che cazzo Ho aperto questo Ok Forse farò un piccolo video In cui vi dico Che ho creato il clan Il clan Che cazzo è il clan Il clan Raga Prendiamo o no Sai che dico Fotte sega La prendiamo Tanto Non siamo qua Per collezionare gem Toglia Se adesso metto il nome Non così Tipo Aspettate Se io metto il nome Tipo Non so neanche Scrivere Ok lo posso creare Quindi Porco cani Come si Però metto Tipo Fuoco Così Type Open Quindi Lo apri Noi ci pichiamo Il prossimo video Bella